Ciao a tutti, io sono il Dilando Goffilo, oggi recensione dell'album in sile numero 124, il picco della strega, che possiamo trovare anche all'interno della grande ristampa numero 42. La copertina originale di Angelo Stano era figurata qui sulla sinistra, direi molto buona, guardate com'è spaventosa questa strega, che poi, ve lo anticipo subito, il titolo è molto ingannevole perché non ci sarà niente di tutto ciò in questa avventura. E qua abbiamo invece Dylan disegnato con una silhouette, forse un po' troppo magra, sembra anoressico, però insomma la copertina tutto sommato è molto buona. I testi alla sceneggiatura sono di Chiaverotti e disegni di Giovanni Freieri. Che cosa succede? Dylan viene assunto per indagare sulla scomparsa da alcune ragazze, però la trama di base potrebbe sembrare buona. Della ragazza è scomparsa su questo fantomatico picco della strega, rapita da delle streghe, piuttosto che da altre creature malvagie. Quindi buone prospettive per una storia che poi invece andrà a deludere, non poco per una ramificazione della trama davvero incongruente, che presenterà varie situazioni molto diverse fra di loro che vanno, che cozzano semplicemente. Quindi abbiamo un Chiaverotti, dal mio punto di vista molto confuso, sembra quasi che questa storia sia stata pensata, creata e stesa a pezzi. È come un puzzle con i pezzi tutti sparsi in giro, davvero disordinati. Non c'è una linea logica fatta e finita, ma è una storia composta da situazioni e scene che vanno in contrasto fra di loro, buttateli un po' a casaccio. È davvero molta molta confusione, quindi il finale non è nemmeno appagante, perché durante l'avventura, a tre quarti dell'albo, Dylan non ha ancora capito cosa deve fare, perché insomma ci sono tante storie raccontate in queste 98 pagine che insieme davvero non stanno bene. Abbiamo una sottotrama che è forse quella che convince di più riguardante un assassino, ma dopo questa sottotrama va a presentarsi un po' troppo come un racconto giallo che non si addice per nulla al panorama di Dylan Dog. Di Dylan Dog, in questa avventura c'è poco o nulla, come vi dicevo, il picco della strega. In copertina di Angelo Stanno vediamo una strega, uno si aspetta una storia di strega, invece non ci sarà nulla di tutto ciò. E non saranno neanche una metafora queste streghe, non si è ancora capito il loro ruolo. Come? Non si capisce il ruolo di ciascun personaggio in questa avventura, perché compaiono, scompaiono, appaiono personaggi a caso, ne vanno via altri. Davvero un bel pasticcio per un voto finale che è un 5,5. I disegni di Giovanni Freghieri sono l'unica nota positiva di questo racconto, sempre molto equilibrati. Quello che soddisfa sono i giochi di luce, davvero eccezionali come sempre. Ci sono alcuni tratti che tendono quasi al fotorealismo, come possiamo vedere ad esempio in questo ospedale, dove ho trovato una struttura veramente convincente nella stesura della luce. Adesso vado a prenderlo, vedete qui i macchinari illuminati dalla luna, la luna perché è fuori notte logicamente. Guardate qui questo bianco, queste ombreggiature dietro, come sono state riprodotte veramente fedelmente. Le espressioni sono abbastanza incise sui volti dei personaggi, alcuni sono caratterizzati in maniera migliore, altri invece tendono ad avere gli stessi occhi, la stessa fisionomia, quindi non c'è molta distinzione a volte fra il volto di un personaggio e l'altro. Anche qui, tallone di Achille e di Freghieri che ritroviamo ancora una volta, Dylan ha degli occhi, una macella che assomigliano troppo a quelle della sua ragazza di turno. Quindi non si capisce se è la ragazza di Dylan che assomiglia a un uomo oppure Dylan che assomiglia a una donna, perché hanno gli stessi tratti del volto. Per il momento è tutto, se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta, condividila dove vuoi, falla vedere a tutti i tuoi amici, fammi sapere la tua qui sotto nei commenti se hai avuto modo di leggere questa avventura, iscriviti al canale YouTube del Dylan Dogofilo, è importantissimo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog, e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo.